ciao a tutti carissimi utenti allora i video oggi credo che sia veramente veramente bello e soprattutto utile a tutti quegli utenti che a cui anzi ogni volta che aprono una pagina di diciamo si ci presenta davanti la famosa finestra di accetta cookie rifiuta cookie una finestra fastidiosa la possiamo osere dire rifiutare tutte le volte che vogliamo però questa finestrella ci compare in sostanza incontinuazionalmente è questa di qua la finestra di cui parlo quindi anche se dicevo accettiamo questi cookie oli rifiuti anni dico sempre di rifiutare questi punti presente questa finestra una volta che noi usciamo dal nostro browser e magari passiamo ad un programma e poi riapriamo nuovamente il browser oppure abbiamo più browser proprio facciamo cambio fra age mozilla firefox che vi posso dire anche safari quello che sia chrome e google chrome praticamente la prima scremata che spuntare è quella proprio di accettare rifiutare i cookie allora come vai passare quindi questo è un piccolo non dico trucco perché non sono magro un piccolo consiglio di come vai passare questo messaggino quindi toglierlo direttamente o perlomeno compare quella frazione di millesimo di secondo per poi chiudersi da solo quindi non abbiamo più quel fastidio ogni volta che apriamo le pagine nostre internet di avere questo avviso dei cookie accetta cookie rifiuta cookie quindi cosa dobbiamo fare allora noi non rimane che andare a cercare una bellissima estensione perché si tratta soltanto di una estensione da andare inserire in tutti i nostri browser quindi mi raccomando non soltanto su quello che utilizzate come principale però installatela su tutti i browser questa estensione perché esiste per tutti i browser quindi non dobbiamo fare altro che in una piccola pagina di internet andare a cercare i don't care about cookies già vedete che già si è palesata insomma questa scritta quindi i don't care about cookies e lo possiamo cercare sia per firefox sia per age sia per opera in questo caso manca chrome però basta che scrivete voi qua accanto cookies chrome e potete anche cercare per esempio l'estensione per chrome quindi per quella che voi andate a utilizzare che è praticamente questa di qua per chi vuole per chi ha chrome quindi basta andare per esempio a ottenere queste estensioni io ovviamente sto lavorando su edge quindi non è adatta questa di chrome quindi basta andare a cercare ripeto questa dicitura su una pagina che voi volete basta scrivere ai don't care about cookies accanto inserite il vostro browser per e vi consiglio sempre di inserire l'estensione perché non è detto che voi anche se utilizzate per esempio come principale chrome magari potete utilizzare qualche giorno per qualche qualche motivo vostro anche age in modo così già avete installato questa estensione su tutti i vostri browser quindi ricordo I don't care about cookies e in più in aggiunta scrivete praticamente il vostro browser quindi chrome quindi firefox edge quello che sia installate questa estensione riavviate tutto e vedere che o non vi compagnano più completamente i cookie perché verranno rifiutati o direttamente vi comparirà in automatico quel millesimo di secondo questa finestra per poi chiudersi in automatico di così fastidio non è da quindi mira quando provate tutti quest'altro tipo di estensione che è veramente veramente utile e soprattutto comoda fatta la prova con tutti i vostri browser e che dirvi buona navigazione a tutti e spero sempre di essere stato ciao a tutti